L'haite Elena Prestes e Lorenzo Spolverato, sei un bugiardo. Lorenzo Spolverato perde le staffe con Elena Prestes durante la pubblicità, scoppia la lite tra il concorrente milanese e la modella nella casa del grande fratello. Grande fratello, Elena Prestes furiosa contro Lorenzo Spolverato durante la pubblicità, sei un grande bugiardo. Il comportamento ambiguo di Sheila Gatta e Lorenzo Spolverato ha spiazzato e deluso Elena Prestes e Javier Martinez. Nel corso dell'ultima diretta del grande fratello, i due giovani concorrenti hanno dichiarato di essere interessati l'uno all'altra scatenando una cesalite che è scoppiata durante la pubblicità. Duro scontro nel fuori onda tra Lorenzo, Elena e Sheila. La puntata di ieri del grande fratello è stata a dir poco scoppiettante. Protagonisti indiscussi della serata Sheila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno finalmente rivelato il loro interesse reciproco. Le rivelazioni dei due geffini, però, hanno destabilizzato Elena Prestes e Javier Martinez, che non hanno nascosto la loro delusione in diretta. Non solo. Anche la ballerina ha rivelato di avere qualche perplessità sul comportamento del milanese, che considera troppo ambiguo. La situazione è completamente degenerata quando Alfonso Signorini ha annunciato il blocco pubblicitario. Nel fuori onda, infatti, Lorenzo è sbottato urlando e scagliandosi contro Elena e Sheila, brave, complimenti a tutte e due. Bella questa cosa, bellissima. Non me ne frega più un cia asterisco asterisco o. Mi calmo un cia asterisco asterisco o. Un comportamento che ha provocato la reazione immediata della modella, che ha rivelato di voler prendere le distanze dal ragazzo, per me è chiaro, non ti voglio più vedere. Pensavo tu fossi sincero. Cosa c'entra Sheila ambigua? Sei tu che devi essere dritto con me, invece sei un grande bugiardo. I sentimenti sono una cosa seria. Uno soffre perché sente qualcosa, non è che fa finta. Non urlare. Dopo Elena, anche Sheila ha deciso di intervenire per cercare di calmare Lorenzo. Le urla del concorrente, però, hanno fatto innervosire la ballerina che ha dichiarato di non voler continuare a conoscerlo né dentro né fuori la casa del GF, ma perché ti stai arrabbiando così tanto? Ma cosa sono ste minacce ricordatevi? Questa è una conferma dei miei dubbi, ma chi ti vuole fuori? Ma tu sei matto. Basta, non ne voglio sapere nulla credimi. Lorenzo al centro delle critiche. Il quadrilatero Sheila gatta Lorenzo spolverato, Elena Prestes e Avier Martinez è stato l'argomento più discusso dell'ultima puntata del Grande Fratello. Il comportamento del concorrente milanese, che durante la pubblicità si è lasciato andare a uno scatto di ira contro Elena e Sheila, non è per niente piaciuto al pubblico di Canale 5, che l'ha duramente criticato sui social, ma tutto bene Lorenzo? Ma si può reagire così perché due donne sono dubbiose sui tuoi comportamenti poco chiari? E ancora n'giù la maschera, ecco il vero Lorenzo. Come si evolveranno le cose tra di loro? La ballerina deciderà di fare una possibilità al ragazzo?